Il fulmine a ciel sereno sulla giunta a Marrano si abbatte nel tardo pomeriggio di giovedì. Gli assessori, la monaca e Polito, il primo all'ambiente e il secondo al bilancio, protocollano le loro dimissioni, mossa che segue di pochi minuti la comunicazione del movimento Schittulli fatta arrivare sul tavolo del sindaco di Margherita di Savoia, con la quale si chiedeva l'avvio di una verifica politica che contestualmente si annunciava che i due assessori aderenti a quel movimento avevano rimesso il loro mandato nelle mani del segretario politico. Un'accelerazione degli eventi che ha colto di sorpresa il sindaco e la sua maggioranza e di fatto ha aperto la crisi dopo appena nove mesi di amministrazione comunale. In poche righe i due assessori dimissionari hanno motivato la loro decisione con una mancanza di collegialità nelle decisioni della giunta, culminata con l'approvazione di una delibera con la quale si sarebbe concesso in locazione ad un istituto scolastico paritario di Roma, l'ex scuola Kennedy, provvedimento che il sindaco e la sua giunta difendono oggi a spada tratta sicuri di non aver commesso abusi o di aver favorito qualcuno. Intanto nella sua lettera inviata al primo cittadino, il segretario politico del movimento Schittulli ha dettato la linea di questa crisi, si è chiesto al sindaco innanzitutto l'azzeramento e l'aggiunta con le riassegnazioni delle deleghe comprese quella del presidente del consiglio comunale. Un primo tentativo di ricucire lo strappo da parte del movimento Schittulli sarebbe stato compiuto in mattinata durante un incontro tra il segretario cittadino e il sindaco. Di fatto con le dimissioni di Lamonaca e Polito i tre ex assessori del movimento Schittulli sono fuori dall'esecutivo. Alla fine di dicembre il sindaco Marrano aveva revocato la delega a Grazia Galeotta e l'assessore alle attività produttive.